Al Ghirigoro La vita alla Tana era quanto di più diverso da Privet Drive si potesse immaginare. Ai Darsley piaceva che tutto fosse pulito e in ordine. La casa dei Weasley era tutta stranezza e imprevisti. Harry rimase scioccato la prima volta che guardandosi allo specchio sul camino della cucina, quello gli gridò «Infilati la camicia dentro i pantaloni, sciamannato!» Il gullo in soffitta ululava e batteva sui tubi ogni volta che gli pareva regnasse troppa calma e le piccole esplosioni provenienti dalla camera di Fred e George erano considerate perfettamente normali. Ma quello che Harry trovava estremamente insolito per quanto riguardava la sua vita a casa di Ron non erano lo specchio parlante e il gullo rumoroso. Era la sensazione di essere simpatico a tutti. La signora Weasley era preoccupatissima dello stato dei suoi calzini e a tavola cercava di costringerlo a servirsi di ogni pietanza quattro volte. A cena il signor Weasley voleva che sedesse accanto a lui in modo da poterlo bombardare di domande sulla vita dei babbani e chiedergli di spiegare in che modo funzionassero cose come le prese elettriche e il servizio postale. «Affascinante!» disse quando Harry gli spiegò l'uso del telefono. «Ingegnoso, veramente! Quanti modi hanno trovato i babbani per cavarsela senza la magia!» Harry ricevette notizie da Hogwarts una mattina di sole, circa una settimana dopo essere arrivato alla tana. Lui e Ron erano scesi per fare colazione e avevano trovato i signori Weasley e Ginny già seduti a tavola. Nel vedere Harry Ginny rovesciò fragorosamente la sua ciotola di porridge. Sembrava che la ragazzina tendesse a far cadere qualcosa ogni volta che Harry entrava in una stanza. Si infilò sotto il tavolo per recuperare la ciotola e ne emerse rossa come il sole al tramonto. Facendo finta di non essersi accorto di niente, Harry si sedette e prese la fetta di pane tostato che la signora Weasley gli porgeva. «Posta da scuola!» disse il signor Weasley allungando a Harry e a Ron due buste identiche di pergamena giallastra, con l'indirizzo scritto in inchiostro verde. «Silente sa già che sei qui, Harry! Non gliene scappa una a quello! C'è posta anche per voi!» aggiunse rivolto a Fred e George che entravano in quel momento assonnati e in pigiama. Per qualche minuto regnò il silenzio, perché tutti leggevano la posta. La lettera di Harry gli comunicava di prendere, come al solito, l'Hogwarts Express dalla stazione di King's Cross il primo di settembre. C'era anche l'erenco dei libri necessari per il nuovo anno. Gli studenti del secondo anno dovranno avere «Manuale degli incantesimi, volume secondo, di Miranda Goshock», «A banchetto con la Banshee» di Gilderoy Lockhart, «Footing con la fattucchiera» di Gilderoy Lockhart, «Un inverno con lo ieti» di Gilderoy Lockhart, «Lula di miele con il lupo mannaro» di Gilderoy Lockhart, «A spasso con lo spettro» di Gilderoy Lockhart, «Trekking con il troll» di Gilderoy Lockhart, «In viaggio con il vampiro» di Gilderoy Lockhart. Fred, che aveva finito di leggere il suo elenco, sbirciò quello di Harry. «Anche a voi hanno detto di prendere tutti i libri di Lockhart», esclamò. «Il nuovo insegnante di difesa contro le arti oscure deve essere un suo fan. Scommetto che è una strega». A quel punto Fred colse lo sguardo di sua madre e si concentrò di botto sulla marmellata. «Questa volta non ce la caviamo con poco», disse George lanciando un'occhiata ai genitori. «I libri di Lockhart costano parecchio». «Beh, ce la faremo», disse la signora Weasley, ma aveva l'aria preoccupata. «Molte delle cose che servono a Ginny penso che potremo prenderle di seconda mano». «Oh, è il primo anno a Hogwarts», chiese Harry alla ragazzina. Lei annui arrossendo fino alla punta dei capelli fiammanti e infilò un gomito nel piattino del burro. Fortunatamente nessuno, tranne Harry, se ne accorse, perché proprio allora arrivò uno dei fratelli maggiori di Ron, Percy. Era già vestito di tutto punto, con il distintivo di prefetto di Hogwarts appuntato sul gilet. «Giorno a tutti», disse frettolosamente. «Bella giornata!» Si sedette sull'ultima sedia rimasta libera, ma si rialzò quasi subito di scatto, levandosi da sotto un piumino per la polvere grigio, tutto spennacchiato. O perlomeno, così pensò Harry, fin tanto che non si accorse che il piumino respirava. «Herrol!» disse Ron, prendendo dalle mani di Percy il gufo afflosciato ed estraendo una lettera da sotto la sua ala. «Finalmente!» ha portato la risposta di Ermione. «Le avevo scritto dicendole che avremmo cercato di salvarti dai Darsley!» Andò a posare Herrol su un trespolo vicino alla porta sul retro, cercando di farlo stare dritto, ma quello si accasciò di nuovo, per cui Ron lo distese sullo scolatoio, mormorando «Patetico!» Poi strappò la busta e lesse ad alta voce la lettera di Ermione. «Caro Ron e caro Harry, se anche tu sei lì, spero che sia andato tutto liscio e che Harry stia bene e che non abbiate fatto niente di illegale per portarlo via, Ron, perché se così fosse, questo metterebbe nei guai anche lui. Sono stata sinceramente preoccupata e se Harry sta bene, fatemelo sapere immediatamente, magari usando un gufo diverso, perché un'altra consegna potrebbe essere fatale a quello che avete ora. Naturalmente ho molto da fare con i compiti di scuola. «Ma come?» disse Ron inorridito. «Siamo in vacanza!» «E il prossimo mercoledì andremo a Londra a comprare i libri per il nuovo anno. Perché non ci vediamo a Diagonalley?» «Datemi notizie appena potete, con affetto, Ermione.» «Beh, casca proprio a fagiolo. Possiamo andare anche noi a comprare tutto quel che vi serve», disse la signora Weasley cominciando a sparicchiare. «Quali sono i vostri programmi di oggi?» Harry, Ron, Fred e George pensavano di risalire la collina fino a un piccolo campo recintato di proprietà dei Weasley. Era circondato da alberi che lo nascondevano alla vista del paese sottostante, il che significava potersi allenare a Quidditch, purché non volassero troppo alto. Non potevano usare vere palle da Quidditch, perché se avessero raggiunto il villaggio in qualche lancio troppo audace sarebbe stato difficile dare spiegazioni. Così si esercitavano lanciandosi delle mele. A turno usavano la Nimbus 2000, la scopa di Harry, che era la migliore. La vecchia stella sfreccia di Ron spesso veniva superata in volo da farfalle di passaggio. Cinque minuti dopo, eccoli in marcia verso la collina, scope in spalla. Avevano invitato anche Persi, ma lui aveva risposto che aveva troppo da fare. Fino a quel momento, Harry lo aveva visto soltanto alle ore dei pasti. Per tutto il resto del tempo se ne stava chiusa in camera. Mi piacerebbe sapere che cosa sta combinando, disse Fred, aggrottando la fronte. Non è più lui. I risultati degli esami sono usciti il giorno prima che arrivassi tu. 12 GUFO e lui a malapena se ne era allegrato. Grado ufficiale di fattucchiere ordinario, spiegò George, vedendo lo sguardo interrogativo di Harry. Anche Bill aveva preso 12. Se non stiamo attenti, rischiamo di avere un altro caposcuola in famiglia. Penso che non reggerei alla vergogna. Bill era il più grande dei fratelli Weasley. Lui e Charlie, il secondo genito, avevano già lasciato Hogwarts. Harry non li aveva mai incontrati. Ma sapeva che Charlie era in Romania a studiare i draghi e Bill in Egitto a lavorare per la Gringot, la banca dei maghi. Non so proprio come faranno papà e mamma ad affrontare tutte le spese della scuola quest'anno, disse George dopo un po'. Cinque serie di libri di Lockhart e Ginny ha bisogno di uniforme, bacchette e tutto il resto. Harry non disse niente. Si sentiva un po' a disagio. Chiusa in una camera sotterranea della Gringot a Londra, c'era una piccola fortuna che i suoi genitori gli avevano lasciato. Naturalmente, solo nel mondo dei maghi lui possedeva dei soldi. Non era possibile usare galeoni, zellini e falci nei negozi dei babbani. Non aveva mai parlato ai Darsley del suo conto in banca alla Gringot. Era sicuro che il loro orrore, per qualsiasi cosa avesse a che fare con la magia, sarebbe scomparso d'incanto di fronte a un bel gruzzolo d'oro. Il mercoledì successivo la signora Weasley li svegliò tutti di buon'ora. Dopo uno spuntino veloce, di soli cinque o sei panini con la pancetta a testa, si infilarono i giubbotti. La signora Weasley prese un vaso da fiori sulla mensola del camino e ci guardò dentro. «Siamo un po' a corto, Arthur», sospirò. «Oggi dovremo comprarne dell'altra. Oh, beh, prima gli ospiti, dopo di te, Harry caro». E gli porse il vaso da fiori. Harry, che aveva gli occhi di tutti puntati addosso, li guardò a uno a uno. «Che? Che cosa dovrei fare?», balbettò. «Lui non ha mai viaggiato con la polvere volante», disse Ron d'un tratto. «Scusa, Harry, me ne ero dimenticato». «Mai?», disse il signor Weasley. «Ma come hai fatto ad arrivare a Diagonalli per i tuoi acquisti l'anno scorso?» «Ho preso la metropolitana e...» «Ma davvero?», chiese Weasley tutto interessato. «C'erano le scale nobili? E come funziona...» «Non ora, Arthur», lo pregò la signora Weasley. «La polvere volante è molto più veloce, caro, ma santo cielo, se non l'hai mai usata prima!» «Cela farà a mamma», disse Fred. «Harry, guarda prima noi!» Prese dal vaso un pizzico di polvere scintillante, si avvicinò al fuoco e la gettò tra le fiamme. Con un rombo dal camino si sollevò una fiammata altissima verde smeraldo. Fred ci saltò dentro, gridò «Diagonalli!» e scomparve. «Devi parlare chiaramente, caro», disse la signora Weasley a Harry, mentre George infilava la mano dentro al vaso. «E stai attento a scendere al focolare giusto!» «Il giusto cosa?», chiese Harry nervoso, mentre il fuoco inghiottiva anche George. «Beh, ci sono un mucchio di focolari magici tra cui scegliere, sai?» «Ma se hai parlato chiaramente!» «Se la caverà, Molly, non gli confondere le idee», disse il signor Weasley, prendendo anche lui una manciata di polvere volante. «Ma caro, se si perde, cosa diremo ai suoi zii?» «Non credo che gliene importerebbe molto», la rassicurò Harry. «Se sparissi su per un camino, per Dudley sarebbe una bellissima barzelletta. Non vi preoccupate di questo!» «Allora, va bene. Vai dopo Arthur», disse la signora Weasley. «Quando entri nel fuoco, di dove devi andare e tieni i gomiti ben stretti», lo avvertì Ron. «E gli occhi chiusi», incalzò la signora Weasley. «La fuliggine! Non agitarti, altrimenti potresti cadere nel camino sbagliato», disse Ron. «Non farti prendere dal panico e non uscire troppo presto. Aspetta di vedere Fred e George». Cercando disperatamente di tenere a memoria tutte quelle istruzioni, Harry prese un pizzico di polvere volante e si avvicinò al fuoco. Respirò profondamente, gettò la polvere tra le fiamme e fece un passo in avanti. Il fuoco sembrava una brezza calda. Aprì la bocca e immediatamente inghiottì una gran quantità di cenere bollente. «Diagonalli!» disse tossendo. «Ebbe la sensazione di essere risucchiato in un gigantesco scarico. Gli sembrò di girare vorticosamente. Il rombo nelle orecchie era assordante. Cercò di tenere gli occhi aperti, ma il turbinio delle fiamme verdi lo faceva sentir male. Qualcosa di duro gli colpì il gomito e lui se lo strinse al corpo, continuando a roteare. Poi gli parve che delle mani gelide lo stessero schiaffeggiando. Aprì un po' gli occhi e vide sfilare una serie confusa di camini e degli scorci delle stanze dietro di essi. I panini con la pancetta gli ballavano nello stomaco. Chiuse gli occhi ancora una volta, desiderando che tutto finisse, e poi cadde a faccia in giù su una fredda pietra e sentì gli occhiali andare in frantumi. Con la testa che gli girava, pieno di lividi e tutto coperto di fuligine, si rimise cautamente in piedi, reggendosi gli occhiali rotti sul naso. Era completamente solo e non aveva la più pallida idea di dove fosse. Poteva dire soltanto che si trovava sulla pietra del camino di quello che sembrava un grande negozio per maghi, debolmente illuminato. Ma niente di quel che si trovava in quel posto sarebbe rientrato in un elenco scolastico di Hogwarts. In una teca di vetro c'erano una mano avvizzita, appoggiata su un cuscino, un mazzo di carte macchiate di sangue e un occhio di vetro che lo guardava fisso. Dalle pareti maschere dall'espressione maligna sembravano spiarlo. Sopra al bancone era accatastato un assortimento di ossa umane e dal soffitto pendevano strumenti arrugginiti e acuminati. Ma la cosa peggiore di tutte era che la strada stretta e buia che Harry intravedeva attraverso la vetrina polverosa decisamente non era Diagon Alley. Prima usciva di lì e meglio era. Con il naso ancora dolorante nel punto in cui aveva sbattuto contro la pietra del focolare, Harry si affrettò a raggiungere silenziosamente la porta, ma era appena a mezza strada quando, dall'altra parte del vetro, apparvero due individui, uno dei quali era l'ultima persona che Harry in quel momento, spaisato, coperto di fuligine e con gli occhiali rotti, avrebbe voluto incontrare. Draco Malfoy. Harry si guardò velocemente intorno e vide un grosso armadio nero alla sua sinistra. Ci si infilò dentro e chiuse le ante, lasciando una piccola fessura per guardare fuori. Un attimo dopo un campanello suonò e Malfoy entrò nel negozio. L'uomo che lo seguiva non poteva essere che suo padre. Aveva lo stesso viso pallido e appuntito, gli stessi geli di occhi grigi. Il signor Malfoy attraversò il negozio, guardando distrattamente gli oggetti esposti, suonò il campanello sul bancone e raccomandò al ragazzo. «Non toccare niente, Draco!» Malfoy, che aveva allungato una mano per prendere l'occhio di vetro, disse «Credevo che volessi farmi un regalo!» «Ho detto che ti avrai comprato una scopa da corsa», disse suo padre, tambulellando con le dita sul bancone. «E a cosa serve se non sono nella squadra?» disse Malfoy tutto imbronciato e stizzito. «L'anno scorso Harry Potter aveva una Nimbus 2000 e un permesso speciale di Silente per giocare con Grifondoro e non è nemmeno così bravo, solo perché è famoso, famoso per quella stupida cicatrice sulla fronte». Malfoy si chinò per esaminare uno scaffale pieno zeppo di teschi e tutti lo considerano brillante, Potter il Magnifico, con la sua cicatrice e la sua scopa. «Me lo hai già raccontato mille volte», disse il signor Malfoy con un'occhiata raggelante. «E vorrei ricordarti che non è prudente mostrarsi poco entusiasti di Harry Potter, non quando la maggior parte di noi lo considera l'eroe responsabile della scomparsa del signore oscuro. «Ah, signor Borgin!» Un uomo curvo era apparso dietro al bancone, scostandosi dal viso una ciocca di capelli unti. «Signor Malfoy, che piacere rivederla!» disse Borgin con una voce untuosa come la sua capigliatura. «Lietissimo! E anche il signorino Malfoy, che gioia!» «In che cosa posso servirvi? Devo mostrarvi una cosa che mi è arrivata proprio oggi, a un prezzo assai ragionevole!» «Oggi non sono venuto per comprare, Borgin, ma per vendere», disse il signor Malfoy. «Vendere?» Il sorriso si congelò leggermente sul viso di Borgin. «Avrà sentito dire, naturalmente, che il ministero sta facendo molti controlli», disse il signor Malfoy, tirando fuori da una tasca interna un rotolo di pergamena e svolgendolo per dar modo a Borgin di leggerlo. «Io ho qualche oggetto a casa che potrebbe mettermi in difficoltà se il ministero dovesse venire a farmi visita». Borgin si aggiustò gli occhialini sul naso. «Il ministero non oserà certo crearle dei fastidi, signore!» Le labbra del signor Malfoy si inculvarono. «Finora non ho ricevuto nessun avviso. Il nome dei Malfoy impone ancora un certo rispetto. E tuttavia il ministero si sta facendo sempre più invadente. Girano voci su una nuova legge per la protezione dei babbani, senza dubbio dietro ci deve essere quello stupido, pidocchioso babbanofilo di Arthur Weasley». Henry sentì montare la rabbia. «E, come lei può vedere, alcuni di questi veleni potrebbero far sembrare...» «Capisco, signore, naturalmente», disse Borgin. «Mi faccia vedere». «Mi compri quella?» interruppe Draco, indicando la mano avvizzita sul cuscino. «Ah, la mano della Gloria!» esclamò Borgin, abbandonando l'elenco del signor Malfoy e precipitandosi verso Draco. «Se vi inserite una candela, fa luce, ma solo a colui che la regge. È l'amica fidata di ladri e scassinatori. Suo figlio ha molto gusto, signore!» «Spero proprio che mio figlio riuscirà a fare qualcosa di meglio che non il ladro o lo scassinatore, Borgin», disse freddamente il signor Malfoy, e Borgin si affrettò a rispondere. «Non volevo certo offenderla, signore, no di certo!» «Però, se i suoi voti a scuola non migliorano,» continuò il padre di Draco, con voce ancora più gelida. «Quella potrebbe essere l'unica attività adatta a lui!» «Non è colpa mia!» lo rimbeccò Draco. «Tutti gli insegnanti hanno i loro prediletti, quella Hermione Granger!» «Avrei creduto che ti saresti vergognato a farti superare in tutti gli esami da una figlia di babbani!» sbottò Malfoy. «Ha ha!» esultò Henry tra sé, felice di vedere Draco confuso e arrabbiato. «E' così che va!» disse Borgin con la sua voce untuosa. «Il sangue di mago conta sempre meno ovunque!» «Non per me!» disse il signor Malfoy con le narici frementi. «No, signore, neanche per me, signore!» rispose Borgin facendo un profondo inchino. «In questo caso forse possiamo tornare al mio elenco!» disse Malfoy tagliando corto. «Ho una certa fretta, Borgin! Ho affari importanti che mi aspettano altrove oggi!» Cominciarono a contrattare, con un certo nervosismo Henry vide Draco avvicinarsi sempre più al suo nascondiglio esaminando gli oggetti in vendita. Il ragazzo si fermò a guardare un lungo rotolo di corda per impiccagioni e si soffermò a leggere con un ghigno il cartellino appeso su una stupenda collana di opali. «Attenzione! Non toccare!» «Maledetta!» «Fino a oggi è costata la vita a diciannove babbane che l'hanno posseduta!» Draco si girò e vide l'armadio proprio di fronte a sé. Si avvicinò, allungò la mano sulla maniglia. «Fatto!» disse il padre dal bancone. «Vieni, Draco!» Henry si asciugò la fronte con la manica mentre Draco si allontanava. «Buona giornata a lei, signor Borgin! La aspetto domani alla villa per consegnarle la merce!» Non appena la porta si fu richiusa Borgin abbandonò i suoi modi melliflui. «Buona giornata a te, signor Malfoy! E se è vero quel che si dice non mi hai venduto neanche la metà di quel che tiene nascosto nella tua villa!» Poi, bofonchiando parole oscure, Borgin scomparve nel retro bottega. Henry attese qualche minuto nel caso fosse tornato indietro, poi, facendo piano il più possibile, sgusciò fuori dell'armadio, oltrepassò le teche di vetro e uscì dal negozio. Tenendosi alla meglio gli occhiali rotti sul naso, si guardò intorno. Era emerso in un sordido vicolo dove sembravano esserci esclusivamente negozi dedicati alle arti oscure. Quello da cui era appena uscito Borgin and Burke sembrava il più grande, ma di fronte c'era un'orribile vetrina con in mostra teste avvizzite e due porte più giù un'immensa gabbia brulicava di giganteschi ragni neri. Due maghi in malarnese lo osservavano dall'oscurità di un androne bisbigliando tra loro. Con un certo nervosismo Harry si avviò, sempre tenendosi gli occhiali e augurandosi contro ogni speranza di trovare la strada per uscire da quel posto. Da una vecchia insegna stradale di legno appesa sopra un negozio di candele velenose capì di trovarsi a Notturn Alley. Questo non lo aiutò affatto dato che non aveva mai sentito parlare di un posto del genere. Pensò di non aver pronunciato abbastanza chiaramente la sua destinazione con tutta quella cenere che gli era entrata in bocca nel cammino dei Weasley. Cercando di non perdere la calma si interrogò sul da farsi. «Non è che ti sei perso, mio caro?» gli bisbigliò una voce all'orecchio facendolo sobbalzare. Davanti a lui c'era una vecchia strega con in mano un vassoio di quelle che assomigliavano orribilmente a unghie umane. lo guardò con occhi avidi mostrando una fila di denti marci. Harry fece un passo indietro. «Tutto a posto, grazie», disse. «Sto soltanto...» «Harry! Che diavolo stai combinando da queste parti, ragazzo?» Il cuore balzò in petto a Harry e anche alla strega. Una cascata di unghie le scivolò sui piedi e imprecò mentre la sagoma massiccia di Hagrid il guardacaccia di Hogwarts si avvicinava a gran passi con gli occhi neri come il carbone che lampeggiavano tra la barba irsuta. «Hagrid!» ciocciò Harry con sollievo. «Mi sono perso! La polvere volante!» Hagrid lo agguantò per la collottola e lo allontanò dalla strega buttandole all'aria il vassoio. Le sue strida li inseguirono lungo il vicolo tortuoso fin quando furono fuori alla luce del sole. In lontananza Harry vide un edificio di marmo candido che gli risultò familiare. La banca Gringot. Hagrid lo aveva portato dritto dritto a Diagon Alley. «Sei una schifezza!» disse Hagrid Burbero scrollandogli di rosso la fuligine con tale energia da farlo quasi cadere in un barile di guano di drago fuori dalla bottega di uno speziale. «Ma che ti piglia andartene a spasso per notturnarlei?» «Posto infame, Harry! Non mi garba che ti fai vedere qui!» «Ne sono reso conto!» disse Harry cercando di schivare un'altra energica scrollata. «Te l'ho detto! Mi sono perso!» «E tu, comunque! Che ci facevi?» «Io cercavo un repellente per lumache carnivore!» brontolò Hagrid. «Mi rovinano tutti i cavoli della scuola!» «Ma tu mica sarai sciolo!» «Sto a casa dei Weasley ma ci siamo divisi!» spiegò Harry «Devo andare a cercarli!» Si avviarono insieme per la strada. «Io a te t'ho scritto! Perché tu no?» chiese Hagrid mentre Harry gli trotterellava accanto. Per ogni falcata degli enormi stivali del guardacaccia lui doveva fare tre passi. Harry gli raccontò di Dobby e dei Dursley «Fetenti di babbani!» ringhiò Hagrid «Se lo sapevo!» «Harry! Harry! Da questa parte!» Harry guardò in alto e vide Ermione Granger in cima alla candida scalinata della Gringot. Lei spiccò una corsa per andargli incontro con i folti capelli castani al vento. «Cos'è successo ai tuoi occhiali?» «Ciao, Hagrid!» «Oh! È meraviglioso rivedervi!» «Stai andando alla Gringot, Harry!» «Appena trovo i Weasley!» rispose Harry «Eccoli che arrivano!» disse Hagrid sorridendo. Harry e Ermione si guardarono intorno. Su per la strada affollata Ron Fred George Percy e il signor Weasley si stavano avvicinando a grandi passi. «Harry!» ansimò il signor Weasley «Speravamo che tu fossi sceso solo un focolare più in là!» Si asciugò la pelata lucente. Molly è disperata «Sta arrivando!» «Dove sei uscito?» chiese Ron «A Noturnally!» disse Hagrid cupo «Grande!» esclamarono Fred e George all'unisono «Noi non abbiamo mai avuto il permesso di andarci!» commentò Ron pieno di invidia «Lo credo bene!» ringhiò Hagrid In quel momento spuntò di gran carriera la signora Weasley stringendo in una mano la borsa che le sbatteva di qua e di là e trascinando Ginny con l'altra «Harry! Oh santo cielo! Potevi finire chissà dove!» Riprendendo fiato tirò fuori dalla borsa una grossa spazzola da panni e cominciò a togliergli di dosso la furigine che Hagrid non era riuscito a eliminare con le sue manate Il signor Weasley prese gli occhiali di Harry gli diede un colpetto con la sua bacchetta e glieli restituì come nuovi «Beh, io me ne vado!» disse Hagrid a cui la signora Weasley stava quasi storcendo una mano «No, Turnalley! Pensa se non lo avessi trovato, Hagrid!» «Ci becchiamo Hogwarts!» e si allontanò a gran passi sovrastando chiunque altro nella strada affollata «Indovinate un po' che ho visto da Borgin & Burke» chiese Harry a Ronne e a Ermione mentre salivano le scale della Gringot «Malfoy è suo padre!» «E Lucius Malfoy ha comprato niente?» chiese il signor Weasley bruscamente «No, ha venduto!» «Allora è preoccupato!» commentò il signor Weasley con cupa soddisfazione «Quanto mi piacerebbe incastrare Lucius Malfoy!» «Tu devi stare molto attento, Arthur» disse la signora Weasley in tono aspro mentre un goblin che stazionava sulla porta li introduceva nella banca con un inchino «Quella famiglia è una fonte di guai e Malfoy è un osso troppo duro per te!» «E così tu pensi che io non sappia tenere testa a Lucius Malfoy?» chiese il signor Weasley indignato ma subito dopo venne distratto dalla vista dei genitori di Ermione in piedi tutti nervosi davanti al bancone che correva lungo la sala marmorea in attesa che la figlia li presentasse «Ma voi siete babbani!» esclamò eccitato il signor Weasley «Dobbiamo brindare! Che cos'è che avete là?» «Ah! State cambiando la moneta dei babbani!» «Guarda! Molli!» e indicò entusiasticamente le banconote da dieci sterline che il signor Granger teneva in mano «Ci rivediamo qui» disse ronna Ermione mentre i Weasley e Harry venivano accompagnati da un altro goblin della Gringot alle loro camere blindate sotterranee le camere blindate venivano raggiunte utilizzando dei piccoli carrelli guidati da goblin che lungo rotaie in miniatura correvano per i sotterranei della banca a Harry piacque molto la scarrossata rotta di collo fino alla camera blindata dei Weasley ma si sentì terribilmente a disagio molto peggio di come si era sentito a Notturn Alley quando venne aperta c'era un esiguo mucchietto di zellini d'argento e soltanto un galeone d'oro la signora Weasley ispezionò ben bene gli angoli prima di raccogliere tutto nella borsa Harry si sentì ancor peggio quando raggiunsero la sua camera blindata cercò di impedire la vista di quel che conteneva mentre in fretta e furia infilava alcune manciate di monete in una borsa di cuoio infine si ritrovarono tutti sulla scalinata di marmo Percy accennò bofonchiando di aver bisogno di una nuova penna d'oca Fred e George avevano intravisto un compagno di scuola Lee Jordan la signora Weasley e Ginny dovevano andare in un negozio di abiti di seconda mano il signor Weasley insisteva per invitare i Granger al paiolo magico a bere qualcosa ci vediamo tra un'ora al Ghirigoro per comprare i libri disse la signora Weasley allontanandosi con Ginny estate lontani da Noturn Alley gridò ai due gemelli che già stavano dandosela a gambe Harry Ron e Hermione si avviarono lungo l'acciottolato della via tortuosa le monete d'oro d'argento e di bronzo tintinnavano allegramente nella borsa di Harry e reclamavano di essere spese fu così che comprò tre grossi gelati alla fragola e al burro di arachidi che divorarono tutti felici gironzolando e guardando le vetrine Ron si fermò estasiato di fronte a una divisa completa dei cannoni di Chadley esposta da accessori di prima qualità per il Quidditch finché Hermione non li trascinò a comprare inchiostro e pergamena al negozio accanto nella bottega Gamble and Jape scherzi da maghi incontrarono Fred George e Lee Jordan che facevano rifornimento di favolosi fuochi d'artificio freddi del dottor filibuster con innesco ad acqua e in un piccolo negozio di cianfrusaglie pieno di bacchette rotte di traballanti bilanci d'ottone e di vecchi mantelli tutti impataccati trovarono Percy immerso nella lettura di un noiosissimo libretto dal titolo Prefetti che hanno conquistato il potere studio sui prefetti di Hogwarts e sulla loro carriera citò Ron ad altavoce leggendo dal retro della copertina sembra davvero affascinante vattene lo rimbeccò Percy certo lui è molto ambizioso ha programmato tutto vuole diventare ministro della magia disse sotto voce Ron a Harry e Hermione mentre lasciavano Percy al suo destino un'ora più tardi si avviarono verso il Ghirigoro ma non erano certo i soli quando furono più vicini videro con grande sorpresa una vera e propria folla che sgomitava per entrare la ragione di tutto ciò era spiegata da un grande striscione appeso alle vetrine del piano superiore oggi dalle 12 e 30 alle 16 e 30 Gilderoy Lockhart firmerà copie della sua autobiografia magicamente io lo conosceremo gridò Hermione voglio dire è lui che ha scritto quasi tutti i nostri libri di testo la folla sembrava composta per lo più di streghe dell'età della signora Weasley un mago dall'aria sfinita stava sulla porta raccomandando piano per favore signore ehi là non spingete attenzione ai libri Harry Ron e Hermione sgattaiolarono dentro una lunga fila si snodava fino al retro del negozio dove Gilderoy Lockhart stava autografando i suoi libri tutti e tre i ragazzi afferrarono una copia del manuale a banchetto con la Banshee e si intrufolarono tra la folla fino a raggiungere i Weasley che facevano la fila insieme ai Granger oh eccovi arrivati bene disse la signora Weasley sembrava le mancasse il fiato e continuava ad aggiustarsi i capelli tra un minuto lo vedremo a poco a poco ecco apparire Gilderoy Lockhart seduto a un tavolo e circondato da gigantografie della sua faccia erano tutte ammiccanti e mostravano alla folla due file di denti di un candore abbagliante il vero Lockhart indossava una veste color non ti scordar di me che si adattava perfettamente alla tonalità dei suoi occhi sui capelli ondulati portava disinvoltamente poggiato di lato il cappello a punta da mago un ometto basso e irascibile gli danzava intorno scattando foto con una grossa macchina fotografica nera che a ogni guizzo accecante del flash emetteva nuvolette di fumo color porpora ehi tu levati di torno intimò a Ron arretrando per prendere un'inquadratura migliore questa è per la gazzetta del profeta ma chi ti credi di essere commentò Ron massaggiandosi il piede che il fotografo gli aveva pestato Kilderoy Lockhart lo udì al solo sguardo vide Ron e poi vide Harry sgranò gli occhi poi balzò in piedi e gridò è mai possibile ma quello è Harry Potter la folla fece largo bisbigliando tutta eccitata Lockhart si tuffò letteralmente in avanti prese Harry per un braccio e lo trascinò in prima fila il pubblico scoppiò in un applauso Harry era paunazzo mentre Lockhart gli stringeva la mano per essere ripreso dal fotografo che scattava foto all'impazzata inondando di fumo denso tutti i weasley fai un bel sorriso Harry disse Lockhart mettendo in mostra la sua fulgida dentatura tu e io insieme ci meritiamo la prima pagina quando finalmente lasciò la mano di Harry il ragazzo non si sentiva più le dita cercò di sgattaiolare verso i weasley ma Lockhart gli mise di nuovo un braccio intorno alle spalle e lo strinse a sé signore e signori disse a voce alta chiedendo il silenzio con un gesto della mano che momento straordinario è mai questo è arrivata l'ora di fare un piccolo annuncio che rimando da troppo tempo quando oggi il giovane Harry è entrato al Ghirigoro voleva semplicemente acquistare la mia autobiografia che ora sono lieto di regalargli qui la folla applaudì un'altra volta e non aveva la minima idea continuò Lockhart dando a Harry un colpetto che gli fece scivolare gli occhiali sulla punta del naso che di lì a poco avrebbe avuto ben più del mio libro magicamente io infatti lui e i suoi compagni avranno magicamente me in carne e ossa sì signore e signori ho il grande piacere e l'orgoglio di annunciare che a settembre assumerò l'incarico di insegnante di difesa contro le arti oscure alla scuola di magia e stregoneria di Hogwarts tutti si rallegrarono e batterono le mani Harry si ritrovò tra le braccia l'intera pila delle opere complete di Gilderoy Lockhart barcollando leggermente sotto tutto quel peso riuscì a farsi largo fuori dai riflettori guadagnando il fondo della sala dove si trovava Ginny in piedi accanto al suo nuovo paiolo prendili tu questi le bofonchiò Harry rovesciando i libri dentro al calderone io me li comprerò scommetto che ti è piaciuto non è vero Potter disse una voce che Harry non stentò a riconoscere si raddrizzò e si trovò faccia a faccia con Draco Malfoy che portava stampato sul viso il suo solito igno il famoso Harry Potter disse Malfoy non può neanche entrare in una libreria senza finire in prima pagina lascialo in pace non è stato lui a volere tutto questo disse Ginny era la prima volta che parlava di fronte a Harry stava guardando fisso fisso Malfoy Potter ti sei trovato una ragazza esclamò Malfoy strascicando le parole Ginny arrossì violentemente intanto facendosi largo Ron e Hermione si avvicinarono carichi di libri di Lockhart ah sei tu disse Ron guardando Malfoy come se fosse qualcosa di sgradevole che gli si era attaccato alla suola di una scarpa scommetto che sei sorpreso di vedere Harry qui eh non tanto sorpreso quanto di vedere te dentro un negozio Weasley replicò Malfoy suppongo che i tuoi genitori faranno la fame per un mese per pagare tutta quella roba Ron diventò paonazzo come Ginny anche lui lasciò cadere i libri dentro al calderone e fece per lanciarsi contro Malfoy ma Harry e Hermione lo afferrarono per la giacca Ron disse il signor Weasley avanzando a fatica con Fred e George cosa stai facendo qua dentro è pazzesco andiamo fuori bene 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 Arthur Weasley era il signor Malfoy in piedi con la mano sulla spalla di Draco aveva lo stesso ghigno del figlio Lucius lo salutò Weasley con un freddo cenno del capo ho sentito che è un momento di super lavoro al ministero disse Malfoy tutte quelle ispezioni spero bene che ti paghino gli straordinari si avvicinò al calderone di Ginny e dal mucchio dei libri nuovi fiammanti di Lockhart estrasse una copia vecchia e consunta di guida pratica alla trasfigurazione per principianti pare proprio di no proseguì santo cielo a che serve essere un onta al nome stesso di mago se non ti pagano neanche a sufficienza il signor Weasley divenne ancor più paonazzo di Ron e di Ginny abbiamo un'idea molto diversa di quel che significa screditare il nome di mago Malfoy disse mi sembra chiaro replicò a Lucius Malfoy e volse i suoi occhi sbiaditi sui Granger che li guardavano con apprensione le compagnie che frequenti Weasley eppure avrei detto che la tua famiglia avesse già toccato il fondo ci fu un tonfo metallico e il calderone di Ginny volò in aria il signor Weasley si era avventato su Lucius Malfoy scaraventandolo contro uno scaffale decine di pesanti libri di incantesimi caddero sulle loro teste con gran fracasso si udì il grido unanime di Fred e George prendilo papà e la signora Weasley che gridava no Arthur no la folla si ritrasse facendo cadere altri scaffali signori vi prego vi prego gridava il commesso e poi una voce che superava quella di tutti gli altri intimò fatela finita gente Hagrid avanzava nella loro direzione attraverso quel mare di libri in un attimo separò Weasley e Malfoy il primo aveva un labbro spaccato mentre l'altro era stato colpito a un occhio da un volume dell'enciclopedia dei funghi velenosi stringeva ancora in mano il vecchio libro di trasfigurazione di Ginny glielo restituì in malo modo con un guizzo maligno negli occhi tieni ragazzina prendi il tuo libro è tutto quel che tuo padre riesce a darti e liberandosi dalla presa di Hagrid fece un cenno a Draco e uscì in tutta fretta dal negozio non ci dovevi dar retta Arthur disse Hagrid quasi sollevando il signor Weasley da terra mentre lui si ricomponeva gli abiti sono marcissimi tutta la famiglia si sa non c'è un Malfoy che vale un fico secco sangue cattivo ecco cos'è andiamo su sembrò che il commesso volesse impedire loro di uscire ma poiché arrivava a stento alla cintola di Hagrid parve ripensarci si incamminarono in fretta i Grange era ancora spaventati e la signora Weasley fuori di sé per la rabbia bell'esempio da dare ai tuoi figli una rissa in pubblico che cosa avrà pensato Gilderoy Lockhart era tutto contento disse Fred non l'hai sentito mentre uscivamo stava chiedendo a quel tizio della gazzetta del profeta se nel suo articolo poteva accennare alla rissa ha detto che era tutta pubblicità ma era un gruppo ormai placato quello che giunse al paiolo magico da dove Harry i Weasley e tutti i loro acquisti avrebbero fatto ritorno alla tana usando la polvere volante si accomiatarono dai Granger che stavano uscendo dal pub diretti dalla parte opposta per raggiungere i quartieri dei babbani il signor Weasley aveva iniziato a chiedere loro come funzionavano le fermate degli autobus ma vista la faccia della moglie si affrettò a interrompersi prima di prendere una manciata di polvere volante Harry si tolse gli occhiali e li mise in salvo nella tasca decisamente quello non era il suo mezzo di trasporto preferito che